Nello Musumeci è l'ex presidente della regione Sicilia, è quel politico, che in piena pandemia, ricordate, bloccò il passaggio dalla Sicilia all'Italia, quindi alla Calabria, alle persone non vaccinate che non avevano il Green Pass. Triste storia, naturalmente. Ebbene, questo politico ora è stato inserito nel governo ed è ministro del mare, un nuovo ministero, ministro del mare. Vedremo cosa deve fare. Andrà a contare i pesci, probabilmente, non lo so cosa farà, non lo so. Ebbene, vi propongo un estratto di una sua dichiarazione fatta qualche tempo fa. A proposito, appunto, dei vaccini. Questo è il governo del cambiamento. Dobbiamo convincerci che il vaccino, piaccia o non piaccia, è l'unico deterrente, è l'unica soluzione che ci consente di affrontare, con la terza, la quarta, la quinta dose, il diritto a restare qui, su questa terra. Dobbiamo convincerci che il vaccino, piaccia o non piaccia, è l'unico deterrente, è l'unica soluzione che ci consente di affrontare, con la terza, la quarta, la quinta dose, il diritto a restare qui, su questa terra.